Tanti volti note, sostegno della candidatura di Mesagne, capitale della cultura, da Simonetta dello Monaco, project manager, a Fabio Pollice, rettore dell'Università del Salento, a Nicola Ciraci, presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Lecce, tra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, ma anche Angelo Cisternino e Angelo Rogoli dei Bundabash, l'attrice Vanessa Scalera, Sergio Rubini e Don Luigi Picoco, oltre agli ex sindaci della città di Mesagne. Questo laboratorio, mi piace intenderlo così, che vogliamo creare qui, non si ferma alla candidatura, ma traccia il solco per un nuovo percorso, che è appunto quello di immaginare una maniera diversa di vivere a partire dalla cultura, perché la cultura ha gli strumenti per cambiare la nostra percezione. E credo che una città come questa abbia le dimensioni, il patrimonio e tutte le risorse per poterlo creare, questo modello. Sapere che una città che fino a dieci anni fa, quindici anni fa, è stato teatro di cose brutte, terribili, che avevano a che fare con la violenza, con la sottocultura. Sapere che poi una città così la si fa diventare, una città della cultura, è un'emozione, è una risposta, è un modo per abbattere tutto il male del mondo. Io credo che tutte queste caratteristiche mesagne le abbia sempre avute e che da tanti anni ormai le stia facendo vedere al mondo.